è tutto aspetta è tutto nero va aspetta aspetta devo girare ok ok sei in diretta vediamo se è dritto ok ecco bene perfetto aspetto un giro di un minuto ok ciao buona lezione grazie le parashot di questa settimana sono due e termina il libro di vaikra io ho scelto di parlare di un argomento che è l'argomento della unaat devarim come vedremo unaat devarim significa il divieto di mortificare una persona per quale motivo ho scelto questo argomento la motivazione purtroppo è triste per quale motivo perché in questo versetto compare la parola ammito velotto nu ish et ammito nessuno recchi danno e poi vedremo che tipo di danno di quale tipo di danno sta parlando qui la Torah nessuno recchi danno al suo prossimo ammito veieretame eloheha temerà il signore tuo dio chiani adonai elohechem perché io sono il signore vostro dio nella parola ammito è chiuso il nome di ammit ammito era il ragazzo che è stato ucciso ieri da un assassino in eret israel è stato ucciso con una pietra un soldato di nome ammito e volevo dedicare a lui questa lezione questo shiur proprio perché compare in questo versetto la parola ammito il suo prossimo ammito significa una persona molto vicina a te chiaramente io non conoscevo questo ragazzo ma questo ragazzo è molto vicino a noi perché difendeva la nostra Eretz Israel e dedicherò a lui tutto questo shiur e per questo motivo io ho scelto oggi di leggere una Mishnah e un passo di Talmud come si fa in ricordo di persone che sono scomparse e vedere poi anche delle Allahot a riguardo veloto nu ish et ammito nessuno re chi danno al suo prossimo veyareta melo eha temmi il Signore tuo Dio Rashi dice che questo versetto non sta parlando di danni economici perché di danni economici ne aveva parlato proprio la parasha di Be'ar Sinai esattamente tre versetti prima perché proprio tre versetti prima c'è scritto che quando tu fai affari con una persona lotto nu ish et achiv nessuno dovrà rendere fare danno ad un suo fratello e allora Rashi chiaramente prendendo il commento del Talmud Rashi dice che non è possibile che la Torah parli di due versetti in due versetti molto vicini che la Torah parli dello stesso danno allora visto che il versetto precedente parlava di affari e quindi si parla di danni economici questo versetto sta parlando dice Rashi una at devarim di danni che si commettono con le parole cioè a dire il deprimere una persona il mortificare una persona con le parole molto spesso noi non diamo una grande importanza a questo divieto e come vedremo da tutta una serie di considerazioni che farà il Talmud e poi i maestri dell'Alaha è molto peggio davanti ad Akadosh Baruchu è molto peggio una persona che fa del male con le parole di una persona che fa del male rubando del denaro perché come vedremo come dirà il Rambam il denaro si può sempre ridare quando si è preso ma quando invece si fa del male ad una persona con delle parole il male è eterno perché la persona si ricorderà sempre il male che gli è stato fatto quindi non potrà mai perdonare veramente dentro di sé noi abbiamo una regola secondo la quale se una persona non perdona neppure Akadosh Baruchu può perdonare adesso noi ci soffermeremo quindi sul commento a questo versetto prendendo spunto dal dal Talmud il Talmud che si trova nel trattato di Bava Mezzia a pagina 58 facciata B la Mishnah dice così leggerò tutto in italiano immediatamente con la traduzione in modo di essere più veloce la Mishnah dice com'è vietato maltrattare nel commercio così è vietato maltrattare con le parole non si dica quanto costa il tale oggetto se non si ha intenzione di acquistarlo poi vedremo che cosa intende la Ha con questo non posso entrare in un negozio e dire ad una persona quanto costa questo oggetto solo per il piacere di sapere il costo dell'oggetto per quale motivo perché il venditore chiaramente quando ti vede entrare nel suo negozio spera di venderti l'oggetto ora secondo la Ha questo non è poi un grande un grande divieto perché oggi è proprio l'uso comune anche la persona che sta all'interno di un negozio sa che la stragrande maggioranza delle persone che entrano non comprano e quindi al giorno d'oggi è vietato fare una cosa del genere è vietato entrare in un negozio e dare come dire il far dare la speranza alla persona che ti possa vendere qualche cosa e quando tu non hai nessuna intenzione di comprare allora spiegano i hahamim che dipende dal momento dipende dal tempo se la cosa è normale regolare la cosa si può anche fare un uso comune ma per esempio in un momento dove non esiste la possibilità di vendere dove c'è una grande difficoltà al giorno d'oggi quando finirà tutta la questione e si potrà rientrare nei negozi non si entri in un negozio semplicemente per chiedere o per guardare la merce perché è ovvio che in quel momento la persona che sta all'interno del negozio è chiaro che sogni e spera di poterti vendere qualche cosa quindi quello che dice la Mishnah non entrare in un negozio se non hai intenzione di comprare solo perché non hai niente da fare a meno che non sia un uso comune entrare uscire ma ci sono dei momenti in cui queste cose non possono assolutamente essere fatte perché fanno male alla persona che è convinto di poterti vendere qualche cosa continua la Mishnah e dice se un uomo era un pentito non gli si dica ricordati del tuo comportamento di un tempo ricordare ad una persona che una volta si comportava male anche per fargli vedere quanto è bello il fatto che lui sia cambiato lo vedremo meglio nella Talmud nella Gemara ecco non lo si dica perché ad una persona se una persona è cambiata nella vita significa che il suo passato non gli dava felicità e allora per quale motivo ricordare ad una persona il passato tu pensi di fargli del bene ma non ti rendi conto invece che a volte ricordare il passato ad una persona anche per fargli il complimento potrebbe abbattere una persona e questo è un divieto della Torah se un uomo è figlio di convertiti dice la Mishnah non gli si dica ricordati del comportamento dei tuoi genitori vedete qui non si sta dicendo se una persona è un convertito quello è ovvio che è vietato ricordare ad una persona che si è convertita ti ricordi che ti sei convertito che tu una volta non eri ebreo questo è ovvio la Mishnah neanche neanche prende in considerazione questo problema perché è talmente ovvio che sia vietato che la Mishnah neanche ne parla la Mishnah sta dicendo di una persona nata ebrea da genitori convertiti non ricordare a questa persona neppure indirettamente la sua provenienza perché questo potrebbe fargli male potrebbe in qualche modo abbatterlo e allora adesso vediamo che cosa dice la Gemara la Gemara su questa Mishnah la Gemara dice ancora una volta vado in italiano e non leggerò tutta la pagina della Gemara altrimenti non faremo in tempo a terminare almeno in parte l'argomento insegnano i Chachamim insegnano i maestri nessuno di voi re chi danno al suo prossimo questo versetto come diceva Rashi Rashi l'ha preso da qui tratta di maltrattamenti a parole salto un piccolo passo della Gemara che cosa intende che cosa si intende far del male ad un uomo con le parole se un uomo era un pentito uno che aveva fatto teshuva non gli si dica ricordati del tuo comportamento di un tempo sei figlio di un uomo la Gemara riprende quello che dice la Gemara non gli si dica ricordati del comportamento dei tuoi genitori se un uomo era un convertito e qui la Gemara comincia ad approfondire adesso vediamo che cosa accade se un uomo lui era un convertito e viene a studiare Torah non gli si dica una bocca che ha mangiato animali non macellati ritualmente e alimenti non adatti impurità ed esseri striscianti viene a studiare Torah che fu detta dalla bocca di colui che fa prodezza ci sono delle persone che si sono convertite vengono a studiare Torah ma come ti permetti di offendere queste persone ricordando a queste persone e dicendo a queste persone ti ricordi quando tu ti comportavi da non ebreo come ti azzardi a dire una cosa del genere dice il Talmud ti rendi conto che tu stai commettendo uno dei lo vedremo immediatamente una delle più gravi trasgressioni della Torah molto peggio che se tu gli facessi del male fisicamente nel suo corpo tu gli stai facendo del male dentro il corpo e questo a Kadosh Baruch Hu non lo perdona se un uomo è colpito da sventura tu vedi una persona che ha subito delle sventure una persona che è colpito se una persona era colpito da malattie Hasve Khalila si seppelliva i propri figli mi viene in mente Amit era figlio unico immagino che cosa può aver sofferto dentro di sé il padre non gli si parli in modo in cui parlarono gli amici di Job Job Iov è raccontato nel Tanakh ha perso tutti i figli Iov ha perso tutto quello che aveva era abbattuto che cosa fanno gli amici o quelli che si dichiarano amici vanno da Iov e per tirarlo su che cosa gli dicono tutto quello che fa Kadosh Baruch Hu c'è sempre un motivo se ti è successo quello che ti è successo c'è un motivo dice la Gemara ma come ti permetti di dire queste belle frasi queste belle parole come ti permetti di fare lo tzaddik di fronte ad una persona che sta soffrendo rimani in silenzio stai accanto a lui abbracciano non fare come hanno fatto gli amici per così dire di Iov i quali gli dissero ricordalo quale innocente è mai morto e quando mai furono distrutti gli uomini retti se Kadosh Baruch Hu ha fatto quello che ha fatto vuol dire che te lo meritavi viene il Talmud e ti dice ma perché non impari l'arte del silenzio se tu vuoi dire ad una persona qualche cosa per tirarla su devi sapere pensare molto bene dentro di te che cosa dire tu vai a dire ad una persona che sta soffrendo se tu stai soffrendo vuol dire che te lo meritavi vuol dire che tu hai fatto qualche cosa che non andava vuol dire che Kadosh Baruch Hu ti ha punito per qualche cosa e in questo modo tu pensi di aiutare la persona a tirarsi su ci sono dei momenti in cui si deve parlare dei momenti in cui si deve rimanere in silenzio la Gemara dice si impara si deve imparare molto bene si impara da quello che dice la Torah che ci sono dei momenti in cui il silenzio è molto più prezioso della parola se dei commercianti cercano da un uomo del grano quello non gli dica andate dal tale che vende grano ben sapendo che costui non ha mai venduto grano questo è una trasgressione della Torah significa mortificare una persona dare una speranza ad una persona quando tu sai che quella speranza è morta in partenza è una trasgressione della Torah che Akadosh Baruch Hu non perdonerà mai più tu dici ad una persona che sta cercando della merce sta cercando del cibo al giorno d'oggi noi potremmo dire una persona che sta cercando un lavoro una persona che ha delle difficoltà economiche e tu gli dai una speranza semplicemente per così quella persona non ti disturba più lui probabilmente non ti disturberà più ma Akadosh Baruch Hu ti disturberà perché dare una speranza ad una persona che spera in te in un aiuto quando tu non hai nessuna intenzione di aiutarlo quando tu semplicemente spari delle parole per allontanare da te il problema di quella persona ebbene Akadosh Baruch Hu non te lo perdonerà mai più si deve dire ad una persona non posso aiutarti si deve dire ad una persona non so ma dire ad una persona delle cose false in modo che la persona ti lasci stare bene questo è un divieto della Torah e tra i più grandi divieti che tu puoi commettere nella tua vita continua il Talmud e dice Rabbi Yehuda dice non si mettano neppure gli occhi su della merce quando non si ha in tasca del denaro era quello che diceva la Mishnah non vuoi comprare perché dare speranze inutili ad una persona che spera di vendere quando non ha nulla da portare dentro casa e qui continua il Talmud e dice l'argomento del maltrattamento a parole è nascosto nel cuore e ogni cosa contenuta nel cuore è detto temi il tuo Dio vi ricordate come continuava il versetto non far del male a parole ad una persona e poi c'era scritto temi il tuo Dio si chiede il Talmud che legame c'è tra le due cose e spiegano i Chachamim che ci sono delle volte in cui tu pensi io posso anche dire delle cose cattive inutili tanto nessuno se ne accorge posso sempre dire di aver detto quello che ho detto perché volevo far del bene viene il Talmud e ti dice guarda le persone non potranno mai capire perché tu hai parlato non potranno mai capire perché tu hai detto quelle frasi perché non ti possono guardare dentro ma c'è qualcuno che ti può guardare dentro temi il Signore tuo Dio perché le persone possono fermarsi al tuo volto a Kadosh Baruch Hu ti entra nella mente e quindi nel versetto ti viene a dire non far del male anche quando anche quando tu sei sicuro che nessuno penserà di te che tu volevi far del male ebbene nessuno penserà di te ma Kadosh Baruch Hu guarda dentro di te nel commento della Torah Temi Ma a questo a questo versetto parla addirittura di insegnamenti di Torah che ci sono delle volte in cui una persona di Torah che conosce Torah può riprendere una persona anche in modo molto duro e la gente può dire perché gli hai parlato in questo modo e tu puoi sempre rispondere gli ho parlato in questo modo per il suo bene perché in questo modo io gli posso far fare teshuva viene la Torah e ti dice tu queste cose le puoi dire alle persone ma sei sicuro di non aver detto le parole che hai detto anche se si parla di parole di Torah perché tu avevi dentro di te dell'astio nei confronti di quella persona se tu lo hai detto perché dentro di te c'era dell'astio ebbene a Kadosh Baruch Hu lo controllerà quell'astio e in qualche modo tu nella vita prima o poi subirai una punizione continua il Talmud e dice diceva Rabbi Ochanan a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai l'Aqba Omer è più grande il peccato commesso con i maltrattamenti a parole del peccato commesso con i maltrattamenti nel commercio infatti nel primo caso è detto temi il tuo Dio e nel secondo caso non è detto temi il tuo Dio nel versetto che abbiamo citato prima che parlava dei danni economici non compare temi il Signore tuo Dio il che significa che è peggio far del male con le parole che far del male con il denaro e infatti il Talmud continua Rabbi El Hazar diceva il primo colpisce la persona le parole colpiscono la persona il secondo colpisce il denaro mentre Rabbi Shimon il figlio di Nahmani disse quello col denaro i danni che si sono fatti col denaro si possono sempre ridare ma i danni commessi con le parole lì non c'è niente da fare un danno commesso con le parole è irreparabile disse un maestro di fronte a Rav Nachman figlio di Itzhak chiunque sbianca il volto di un compagno in pubblico è come se ne versasse il sangue da dove si impara che se io sbianco una persona è come se l'uccidesse gli disse Rav Nachman hai detto bene gli disse Rav Nachman hai detto bene poi vi spiego per quale motivo ne parla proprio Rav Nachman ridisse Rav Nachman hai detto bene infatti si nota che il volto di chi è mortificato diventa prima rosso e poi bianco disse Abba Ye a Rav Dimi a che cosa voi state attenti in Eretz Israel Abba Ye stava in Babilonia ma i più grandi Chachamim erano in Eretz Israel Abba Ye disse a Rav Dimi ma per quale motivo voi in Eretz Israel siete più grandi come Chachamim di noi che siamo in Babilonia a che cosa state attenti in Eretz Israel che cos'è che vi dà tutta questa chokhmà in Eretz Israel gli rispose Rav Dimi noi stiamo attenti in Eretz Israel a non far sbiancare i volti diceva Rabbi Haninah tutti scendono al Geinnam nel regno dei morti il Geinnam è dove si è puniti dopo la morte tranne tre tipi di persone dice il Talmud cosa vuol dire solamente tre tipi di persone vengono punite e chi ha trasgredito Shabbat e chi ha mangiato non kashar chi non ha mai studiato un passo di Torah pur potendolo fare chi ha commesso altre averote va direttamente nel Gan Eden è questo è questo che vuoi dire no gli disse ora ti spiego tutti scendono nel Geinnam ma dopo un periodo dopo essere stati puniti dopo la morte poi risalgono se ne vanno nel Gan Eden ma ci sono tre persone i quali scendono nel Geinnam e a Kadosh Baruch non li fa più risalire allora dice il Talmud quali sono queste persone chi si unisce con una donna sposata chi fa sbiancare un volto in pubblico e colui che chiama un altro con un ridicolo soprannome noi a Roma siamo anche se io non sono romano ormai lo sono dentro ma noi a Roma siamo abituati a dare un soprannome a tutti ognuno ha un soprannome anche a me l'hanno dato il soprannome e mi chiamano Ravul perché quando mi arrabbio divento verde allora dice il Talmud non si diano mai soprannomi alle persone perché dare il soprannome e chiamare una persona per soprannome significa scendere un giorno nel Geinnam e non salire più perché tu pensi che un soprannome faccia sorridere invece un soprannome per chi lo ascolta può far molto male ma dice il Talmud ma non è tu così sono molte persone che sono abituati a farsi chiamare per soprannome certo dice il Talmud e che cosa accadrà ai loro figli quando i loro figli o i loro nipoti saranno definiti come i figli di quel soprannome o i nipoti di quel soprannome loro si vergogneranno loro staranno male e allora che cosa accadrà che se tu chiami una persona per soprannome il soprannome rimarrà per sempre e prima o poi qualcuno si vergognerà di quel soprannome e tu stai facendo un onahat devarim io qui mi interrompo con la pagina di Talmud e volevo leggere solamente nei quattro minuti che ci restano magari qualche alahat perché una pagina di Talmud non è detto che diventi alahat il Rambam in più punti della sua opera nel Sefer HaMitzvot il Rambam dice così siamo stati avvisati del divieto di ferirci l'un l'altro con le parole questo peccato si commette quando si dicono a qualcuno delle cose che fanno male o che mettono l'ansia a tal punto da non permettere a quello di riprendere forza ad esempio se un tale in gioventù aveva tenuto comportamenti dei quali si era pentito e gli si dice grazie a Dio che ti ha tolto da quella strada il Rambam dice ma come ti permetti noi molto spesso vediamo una persona e gli diciamo meno male che adesso ti comporti bene pensa quanto gli stai facendo male ricordando il suo passato se si vedono dei mercanti cercare del grano non si dica loro andate dal tale pur sapendo che quel tale non ha mai venduto grano non si diano dei per quale motivo non dare delle speranze a delle persone che aspettano una speranza non gliela dare quando tu sai che la speranza non esiste però il Rambam aggiunge una cosa se si pone una domanda riguardo ad una certa materia non si dica a chi non conosce l'argomento cosa risponderesti tu a volte tu hai un alunno tu sai che quell'alunno non sa quell'argomento per quale motivo gli devi fare proprio una domanda su quell'argomento aiutalo a volte anche dicendo sì ma io lo faccio per far del bene non è detto che sia un bene allora abbattere una persona soprattutto una persona giovane non è mai una cosa positiva si cerchi di aiutare non si cerchi di uccidere dentro una persona di versarne il sangue mantenendo il volto bianco della persona e poi il Rambam dice è più grande il peccato dell'ingiuria del peccato del raggiro economico in quanto ad una frode di denaro c'è rimedio all'ingiuria no nel primo peccato è detto temi il tuo dio perché l'intenzione di un ingiurioso è nascosta nel cuore si sappia che per ogni cosa nascosta nel cuore è detto temi il tuo dio chiunque urli a dio chiunque urli a dio per essere stato mortificato per essere stato mortificato viene immediatamente corrisposto perché è detto io sono il signore il Rambam aggiunge un commento che il Talmud non riporta perché c'è scritto non far del male a parole io sono il signore prima il Rambam l'ha anche riportato il Rambam vede quello che c'è dentro di te ma il Rambam aggiunge un particolare ricorda che quando una persona che è stata offesa mi chiede aiuto e il Talmud dice piange per quello che gli è stato fatto e non c'è nel momento in cui una persona piange per un dolore che gli è stato fatto Akkadosh Baruch Hu non chiude mai le porte della sua tefillah prima o poi una persona che ha fatto del male e che ha fatto piangere qualcuno e il Talmud dice secondo me è una cosa molto bella soprattutto se si tratta della moglie ebbene quando si fa del male ad una moglie e la si fa piangere ecco non c'è niente di peggio di fronte ad Akkadosh Baruch Hu queste sono le Allahot e poi il Tur Shulchan Aruch riprende proprio come Allahah quello che abbiamo detto prima il divieto di chiamare una persona per soprannome Tur Shulchan Aruch capitolo 228 non si può chiamare una persona per soprannome io interrompo la lezione voglio Akkadosh Baruch Hu dare la nechama alla nechama di Amit un nostro figlio in Eretz Israel che ha perso la vita per colpa di un assassino voglio la sua nechama entrare immediatamente nel Gan Eden e posso Akkadosh Baruch Hu dare a questo ragazzo solamente Baruchot alla famiglia che ha pianto solo Baruchot e che ascolti tutto quello che dirà piangendo la famiglia che ha perso un figlio Tzaddik ricordiamoci di Amit nella nostra Parashah ricorre due volte Amit era uno Tzaddik piangiamo anche noi per la vita di uno Tzaddik Shalom Le Kulam